Ci troviamo a Riesi nell'azienda agricola del signor Pietro Ballaera. Lei prima produceva pesche, adesso mandorle. Per quale motivo? Perché con le pesche da sette anni a questa parte abbiamo perso centinaia di mila euro. E quindi siamo stati costretti a tagliarle e metterci questo innesto di mandorle, sperando che funzionino sul pesco e sperando che con le mandorle che c'è meno mano d'opera riusciamo a prendere qualche mille euro, sempre con la speranza. Solo che le mandorle c'è quando le caricano, quando non le fanno e siamo così, siamo nelle mani del signore. Avete affrontato tante spese per passare dalle pesche alle mandorle? Certo, sicuramente abbiamo affrontato tante spese e purtroppo si doveva fare perché con le pesche, come le ripeto quello che ho detto poco fa, da sei anni a questa parte, forse anche di più, da sette otto anni, abbiamo perso, se spendevamo centomila euro per fare le spese del peschetto, ne prendevamo cinquanta. Quindi l'azienda giustamente così non può andare avanti. Ma per quale motivo? Spieghiamolo. Non si riescono a vendere o si vendono a prezzo basso? Sono a vendere, solo che i prezzi di mercato sono così bassi che anche i commercianti hanno ragione a pagare anche poco perché loro non hanno un riscontro anche loro. Perché con la merce che entra di fuori, che ci invadono i mercati, che ci invadono le nostre catene di distribuzione, noi siamo costretti a vendere a costi bassissimi e i commercianti a comprare a costi bassissimi. Non hanno neanche colpo i commercianti perché loro comprano per il mercato che c'è nazionale. Quindi il problema è sempre quello, sempre quello che avete evidenziato in questi anni, che non ci sono controlli, la merce viene da fuori con prezzi bassi. Poi quest'anno è un anno disastroso, che molti miei colleghi sono nel punto di andare a tagliare tutti i peschetti e fare la prova e stare a mandorlo. Vedendo questo nostro, si sono rese conto che si può fare. Però non è detto che riesce bene, se hanno una dorata, possono durare due anni, tre anni sul pesco. Però noi ce la mettiamo tutta per trasformare la situazione, chissà potrebbe andare meglio. Ci proviamo. E quindi la Sicilia rischia di perdere la sua frutta buonissima, di alta qualità? La Sicilia rischia di perdere non la sua frutta, ma perdere tutto. Già perso le strade, non ci possiamo più venire. Specialmente quando piove, è peggio ancora. Ma ora con queste buche, con la polvere, con le cose, siamo diciamo... Forse nel deserto si cammina meglio perché la sabbia è piana, ma qui ci sono buchi di 50 centimetri. Quindi non lo so, non lo so. La sua azienda produce tutto biologico? Allora, no. Da quest'anno ci siamo convertiti... L'azienda è di mio papà. Io diciamo ci lavoro con mio papà, però rappresento mio papà. Da quest'anno abbiamo fatto la prova a cambiare un po' le culture, chissà qualche 10 centesimi in più sul prodotto quando saremo biologici e lo possiamo prendere. Sperando che tutto va bene. Sperando che con questo biologico, diciamo, il governo ci dà magari finanziamento. Non lo sappiamo ancora. Questo è il primo anno. Quindi, in sostanza, avete tolto le pesche, avete impiantato le mandorle, sperando di guadagnare qualcosa. Avete speso tanti soldi per questo passaggio e adesso siete nelle mani del Signore. Siamo nelle mani del Signore, certo. Qui siamo. Cosa c'è da fare? Cosa c'è da fare?